Per la procura di Sassari e per i giornali che ne hanno riportato le accuse, la psico-neuroanalisi del dottor Giuseppe Dore era un improbabile truffaldina a cozzaglia di fisica, cabbala, ebraismo e psicologia. E una parte della cosiddetta inchiesta Alzheimer verte sull'ipotesi dell'inconsistenza scientifica della cura Dore. Ora però, della terapia impiegata dal neurologo Itirese, si stanno interessando alcune scuole di psicosomatica ed una serissima rivista web che si occupa di salute e ambiente, Villaggio Globale, annuncia progressi nel campo delle malattie neurodegenerative e indica la psico-neuroanalisi come principale protagonista delle ricerche in tale direzione. Affirmare l'articolo è Vincenzo Valenzi, codirettore dell'Istituto di Medicina Integrata IURS-FUB di Bellinzona e perito di parte nella difesa giudiziaria sul caso Alzheimer. Pare proprio che il tentativo di Freud di portare la psicoanalisi su una base organica tenda a maturare e un ampio studio internazionale è in gestazione per poter verificare queste nuove chance di lotta alle malattie degenerative che colpiscono il cervello, afferma Valenzi. Arriva da Pisa uno studio sul ruolo della psiche nella prevenzione e nella cura delle forme lievi e moderate di demenza che sembra in linea con il lavoro svolto dal giovane neurologo sardo e rende plausibili oltre ogni dubbio i risultati che erano stati contestati vivacemente da larghi settori delle scuole mediche, neurologiche e psicogeriatriche che vedono un impegno patologico più legato ad aspetti molecolari e genetici e farmacologici, si legge nell'articolo. Le metodiche saranno valutate da una policentrica europea guidata dallo psicoanalista Orlando del Don e discusse a Kiev in Ucraina a maggio nella conferenza internazionale sulla biofisica e medicina. È iniziata la fase del riscatto per il neurologo Itirese e i suoi collaboratori fra cui la collega Marinella Donofrio?